Qui tutti vogliono aiutarmi, perché a me non l'hanno accertata la capacità. Mi ci rimandi a quel maledetto banco dei testimoni, così vi convinco tutti. Non giocate al giudice e all'avvocato. Mentre voi giocate con le vostre regole, a me continuo a correre il tassametro della vita. Io non sono solo una figlia, una moglie, una sgualdrina, una paziente oppure un'imputata. Io non sono solo un'immagine per la vostra testa, lo capite questo? Conosco donne che sposano uomini che disprezzano per poter viaggiare in macchine di lusso. E allora non condannatemi se faccio la prostituta. Io sapevo quello che stavo facendo in qualsiasi momento e me ne assumo la responsabilità. Volete che faccia la commedia della malata? Povera malata, Claudia, bisogno d'aiuto. Beh, allora io non ve la faccio la parte, avete capito? Non sarò mai quello che voi vi siete messi in testa. Claudia la pazza! Lo capite quello che dico? Lei può farmi firmare un foglio di carta che dice che sono pazza, ma sarà solo un foglio di carta. E non potete farmi diventare pazza anche se ci mettete sotto un milione di firme. E anche se me lo ripetete un milione di volte. Voi non potete! Farmi diventare pazza. Cercate di capire bene tutti quanti. Io non divento pazza per farvi un favore. Porto un monologo tratto dal film Pazza per la regia di Martin Ritt con Barbara Streisand. Ciao, sono Donisa Mazzoccoli, sono di Montescaglioso, provincia di Matera.